Buonasera ragazzi a noi siamo venuti a sondi su mano e su araberano in questo modo che è il 3D Mutant Genetic Lighter Ragazzi già vi ho fatto un video di questo gioco L'ho caricato adesso Praticamente il gioco l'ho fatto lunedì alle 3 di notte, ho chiesto del mio endafor Mo l'ho fatto alle 10.22 Ragazzi oggi andiamo a spacchettare Cioè andiamo nella slot machine Per vedere i nostri nomi mostri E provare Voglio con lo cazzo di cavolo E lasci stare in molti po' Oddio Ieri siamo andati a fare questa slot machine Nishido Nishido Questo qua Questo qua blu Questo Questo Non è andato a fare questa slot machine Nishido Nishido E' quando mi esce il mostro? E' quando mi esce il mostro? E' se... Ma tu... Il gioco però chiede sempre, non c'è posto niente Guardate un po' il nostro mostro... Aspetta Perché il nostro mostro deve salire di livello Io per far salire di livello dovete fare l'ultimo, il primo questo qua Allora, cura E poi... Adesso sto... Guarda che a livello 5 c'è tene 4.000, un culo E questo è a livello 19, amm... Questo è quello... Mamma mia Ma non lo so Ecco ho messo questa... Questo coso... Questo coso... Questo sfondo a cerchio perché è più bello Ecco che c'è poco tra... Guarda dimmi le molote Ehm... Ehm... Questo mio falotto... Questo mio falotto vuoi fare... Ehm... S mafia che ha fatto... FE Ehm... Ehm... Intunesetto... Nienti comment Mount un portать E' sale di livello 1, livello 6 Ma con questi scontri turno poco, quindi su questo gioco La madre, non è sicuro che stai Qua c'è il pezzotto Stiamo a quattro minuti, ci abbiamo fatto due battaglie Io ho la capazza per te, ma che bellino Io ho la capazza per te, non ho ancora Io ho la capazza per te, non si ballino Io ho la capazza per te Io ho la capazza per te E' buono Io ho la capazza per te Adesso ci tendiamo a prendere un po' di vita Io ho la capazza per te Io ho la capazza per te Ma giù E' quella 7, 4 mila di vita Io ho la capazza per te 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 Ehm, ma ci vediamo E se io ho la capazza per te Vai, ma è a livello 8 Il livello 8 è troppo forte Ma quanta cosa tengo all'amore No, ma si può fare altre tre battaglie E altre due Ma ci facciamo, ma ci facciamo se il livello è kill 5 mili di vita Oggi, ho il livello 8000 di video Killato, il livello a 17000 Oggi, figuriamoci Il livello di 17000 di video Ma... ... Alla prossima! come uno spettacolo andiamo a vedere andiamo a seguire il livello qui lui attravo l'ultimo ok l'ultimo cosa 5.000 5.000 l'ultima battaglia che dobbiamo fare ho quasi vinto tutti i biglietti cioè questo è l'ultimo biglietto quindi se vinci 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 cioè qui cosa cosa facciamo il 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti